Laura Rogora, un appuntamento importante per Buster Sizz, in particolare anche per lei che è una grande appassionata di ciclismo. Sì, ovviamente quando ci siamo sentiti con Renzo Aldani, presidente della Binda, devo dire che ero felicissima per questa collaborazione che si prospettava e che adesso è diventata realtà, per cui essendo appassionata di bici e assessora allo sport direi che il connubio è per me vincente e a questo punto sono orgogliosa di questa partenza, ma soprattutto voglio continuare a sottolineare che oltre alla partenza che sarà il 5 di ottobre, la vera partenza per noi parte a breve, perché veramente vogliamo organizzare una serie di eventi che vada a nostra sicurezza sulla promozione dello sport per i bambini, facendo rete e coinvolgendo ovviamente le società del territorio e anche gli altri assessorati alla cultura, alla scuola, all'istruzione, perché veramente vogliamo fare un lavoro di gruppo e promuovere la città di Busto, ma soprattutto la promozione dello sport e dei suoi valori.